Io sono qui e dico che respiro, non faccio opero senza il macchinario, non faccio opero senza l'ausiliario. Anche se sto in casa da un mese, esco solamente per le spese, non corro il rischio di tutte le sorprese. Ascolto ogni giorno le notizie, mi aggetto quasi cose rompizie, invece portano solo mestizie. E questo il tempo a leggere e a cantare, accompagnando molto la chitarra. E in qualche caso sono anche autore, la cera non si va in pizzeria, ma si prepara tutto in autarchia. E mi rapporto in video chiamata, cercando gli amici naturata. Senza il cattolisco e per la chiamata, io sono qui e dico che respiro, non faccio opero senza il macchinario, non faccio opero senza l'ausiliario. Grazie a tutti!